Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand Ricominciamo finalmente Ghost Recon Abbiamo dovuto reinstallare il gioco E rifare un attimo le missioni che avevamo già fatto E ci eravamo lasciati Nella Closet Beta Con la penultima missione Anzi l'ultima, questa, missione storia Dobbiamo uccidere il Polito Tu dove avevi visto i tipi da uccidere? Ah ok, noi siamo qui Noi dobbiamo uccidere questi ragazzi La Yuri e il Polito, che sono due a quanto pare Torturatori E ci stiamo andando proprio ora Quindi saranno il primo nostro boss Della malavita, qua, della Bolivia Da uccidere Quindi andiamo con quest'altro Una cosa sensuale Seppelliscilo sotto una roccia in fondo al mare Liberati di quella merda E non azzertarti a guardare cosa c'è sopra Gli ha detto liberati di lui Mentrele con una roccia in fondo al mare Comunque ragazzi, 400 metri L'obiettivo è abbastanza vicino Perché ci siamo spostati con il viaggio rapido E adesso dobbiamo andare uccidere il primo boss E poi adesso da qui Ecco, guarda, così, guarda Così vedo tutto Oh, là Una bella visione ampia Dove cazzo sarebbe il Polito? Oddio, è qua sotto Qua sotto c'è il capanno, Rinnegan Eh, punto Perfetto Tu sei 12 metri da me Cosa fuggiamo il drone? E uso il binocchio? Sto usando il binocchio Tu sti usando il binocchio? Il binocchio non ci vede niente Usiamo il drone Vabbè, non c'è un cazzo Non c'è nessuno qui Perché praticamente ragazzi Se vi ricordate Noi abbiamo rubato l'auto sportiva Che era la Lamborghini E abbiamo messo una sorta di tracciatore GPS Adesso ci ha detto che lui si nasconde dentro questa capanna Ci avviciniamo al capanno Anche ha detto Occhi aperti Vabbè E dentro Siete 31 metri l'obiettivo Ora Ora dovrebbe essere qua dentro Occhio, attenzione Chi c'è qua? Ho visto Ho visto che c'è qualcosa Sì, mi segna anche a me Che c'è qualcosa di arancio Aspetta Quando c'è qualcosa di arancio Vuol dire che c'è un nemico Entro in casa Sto arrivando Aspetta, aspetta Aspetta Doviamo entrare Dopo gli infeghiamo anche l'elicottero Vaffanculo Scassina Andiamo un po' Ah, fa da solo Ok, non c'è niente da fare Ok, aspetta L'ho aperta Ci siamo Entriamo Visore notturno Occhio le porte agli angoli Occhio le porte agli angoli C'è scritto Ci ha detto Ma forse è meglio senza visore notturno Qua c'è un'altra Non che non funziona Qua non c'è un cazzo Dove cazzo devo andare? Ok, c'è un teno sottotterraneo Ah, dove? Ah, ok Arrivo, eh Fai piano Ok Usi il drone? Sì Sì, ma il drone Vabbè Prova Ma c'è un teschio Ma c'è un teschio Deve essere qui che Sandoval ha tirato le cuoia Vedi qualcosa? Dice che l'hanno tenuto in vita per 48 ore Il poveretto ha resistito Ma che bello, rinagano che usa il drone E mi permette di andare avanti tranquillo Ah, sono qui Ok, ok, sono qui dentro ragazzi Ma sto basso Vado di qua Sì, ma come si entra qua dentro? Vabbè Andiamo ad andare qua sotto Ma c'è la porta qua Qua c'è la porta, rinagano Merda Ci sono due nemici qui davanti Usa Vabbè, uso Stavo via Ammazzato Ammazzato Polito è morto Polito è morto Ucciso No, attenzione Yuri, c'è Yuri Quello è Yuri Ucciso anche Yuri Perfetto ragazzi Ehm, ottimo Che figato ragazzi E mettere fine agli orrori Di quei due piccioncini Ci ha fatto guadagnare punti con i locali Ci riaggiorniamo In caso di non c'è Passo e chiudo Ehi Vieni sotto Fa che roba Gente senza mani Senza testa Tutta gente torturata Guarda che schifo Che bastardi Proprio senza Ok Che merda Ah, mi hanno ucciso questo? Ma come parli? Scusami Questo, vedi? L'hanno ucciso loro? Sì Beh, potevamo salvarlo Peccato dai Non importa No, mi ha sconso già morto dai Allora ragazzi Siamo così Adesso vediamo un po' La missione che dobbiamo fare Ehm, beh Intanto dotazioni Vediamo cosa mi ha dato E mi ha dato armi nuove Mi ha dato La K47 per lui E la K47 per lei Sì, ma non posso metterci Il silenziatore, no? Vediamo Sarebbe È bello però Ah, non posso metterci Che shit ragazzi Allora ragazzi Abbiamo deciso di Proseguire da questa parte Di isola E siamo interati Con l'elicottero Adesso dobbiamo controllare Questo avamposto In pratica Vedi qua ci sono dei dati E dobbiamo mandare A prenderli Per dare informazioni Sulle missioni Come ci muoviamo Con quello lì Dobbiamo scoprire con chi fa Il suo Questo è sulla mappa Un attimo Sto sulla mappa Dezooma Eh Dezooma con un pelo Vedi che è il preghetto Dovremmo prendere Come primo quello lì Però lì l'abbiamo eliminato Adesso vogliamo prendere Tutti gli altri Questo è questo Questo è questo Questi qua Eh si Eh vabbè Adesso andiamo qua E vedi qua ci sono dei dati importanti Quei dati importanti Sblocchano le missioni storia Però attenzione che C'è qualche Duno È una missione notturno E il cazzo C'era Oh Sto bastardo Non mi ha visto Cosa c'è Cosa c'è Rimelan Ti hanno visto No Si è terrato in mezzo al villaggio Praticamente Tranquillo Uno è dentro la capanna No Non c'è che lei ci sia tu Oh sto cazzo di luce La spengo Ok Spegno tutte le luci Tanto hai rivisorio di notturno Adesso spengo tutte ragazzi Ok Ok Ho spento tutte le luci Ah ma ci sono i prigionieri Da liberare anche Perfetto Aspetta che libero Il coglionazzo qua Anzi sono in due Guarda che bene Uccisione confermata Ok Oh apri Ok perfetto L'ho aperto Ah ecco qua ci sono i dati importanti Vado a prenderli un attimo Chi mi ha visto Non lo so Non sto sparando Non sto sparando a me Sto sparando ai ribelli credo Perché li ho liberati Se credo dopo vanno da soli A sparare a tutti Ok ragazzi Ho intagato Perfetto Dopo poi per Ho capito un'altra cosa Ok nuova missione Il casino Distrutto i tavoli Le macchine da gioco Ah dobbiamo distruggere tutto il casino Perché no Ci sono Adesso rendiamo al punto ragazzi E vediamo un po' di distruggere Le macchinette da gioco Del casino Del cartello Quindi ho ringraziato Ottimo ma che bello Che è Passo di piano grazie Atterra sulla strada No no non atterrare sulla strada Atterra qua Perché no? Atterra qua Ma qua vedi che è tutta una roccia Atterra la terra in questo piano Atterrato Ok pronto Attenzione che qua sarà pieno di gente Ma tipo pieno Io prendo In posizione Sopra le data Andiamo Vai sopra tu Qua ci sono delle scale effettivamente Solo che non so Uso il drone Merda Non ho sbagliato Tasto ragazzi Il drone è partito Oh finalmente Oh guarda qui sotto Attenzione Uno due Visti Ah c'è anche lo zoom Il drone Perfetto Ho lo zoom Sul drone Guarda quanti Cinque Qua ci sono un po' C'è gente normale Civili Sul tetto c'è un cecchino Come c'è un elicottero drone Merda mi ha visto Ma forse non mi ha visto No non mi ha visto Non mi ha visto E' sul tetto Riesce a prenderlo Ok io c'è quello la in fondo Invece Sì ma non lo vedo Non capisco Voglio sparrarlo Merda L'ho mancato L'ho mancato Ma perché non riesco a colpirlo Vaffanculo Ammazza di tutti Ma che cazzo Che è mira di merda oggi Guarda si colpire nessuno Ok uno l'ho ucciso Vaffanculo muore Ma perché non scolpirlo Ma cos'è oh Dove ho ucciso E' dove ci direi tutti io oggi Eh scusa una mira di merda oggi Ok Il tenente cerca di scappare Un momento il tenente cerca di scappare Oh tenete 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 Quello con la i Vaffanculo col cazzo che scappi Pezzo di merda Aspetta aspetta Qua ci sono delle munizioni Cazzo è più di gente qua Attenzione C'è una Vaffanculo muori Ok Ok uno è morto C'è uno è morto Morto Ok C'è uno la sopra Uno era la sopra Non lo vedo più Vabbè Vado a prendermi un'inizio Adesso Attento che sono lì sopra Ti li distraggo Tu sparali da lontano Un momento Vado a prendermi un'inizio Morto Preciso Ricordate facciamo solo qualche danno Distruggiamolo senza uccidere nessuno Ok Ha detto dobbiamo fare Che cosa? Ha detto dobbiamo fare solo qualche danno Non uccidere nessuno Cioè non uccidere i civili ovviamente Ok ragazzi Andiamo qui dentro Perché ne riesco ad entrare? Vabbè Pettiamo per la porta E vengono la finestra C'è una macchina Sai che cosa potevano fare? Come devo romperle? Ah così Che figo Sono nato Sono nato di sotto la grande Aspetta che rompo tutto Rompi tutte le macchinette Che figo Aspettami Abbiamo distrutto tutto Tutte le macchinette Dove sei? Fuori Vedete che c'è la macchina del cartello Dove è la macchina del cartello? Eeeh Ottimo L'edificio è illuvina Il mio dei guastatori Gradisce la nostra offerta Ecco Lì venga sempre sopra l'amburghini Mamma mia Adesso dobbiamo andare scusa Ragazzi Allora la prossima missione Dovremmo andare a prendere Quei dati importanti Lazzù già ci direzziamo Verso la posizione Per oggi Diciamo che può bastare così E il prossimo video Facciamo come sempre Dati importanti Poi missione principale Ciao a tutti ragazzi Oh merda Oh merda C'è un convoglio Via via da qui E' esattamente sicuro Sì Non ci conviene Non ancora Stiamo qui Ciao a tutti ragazzi E al prossimo video Ciao Ciao